Nicola Profumi, direttore sviluppo franchising di Remax Italia, quest'anno vincitori all'Italian Franchising Award della categoria sviluppo franchising. Un premio che vi inorgoglisce. Qual è stata la caratteristica che ha fatto sì che vi siate giudicati questa categoria? La caratteristica principale è un grande lavoro di squadra dello staff sviluppo che è composto da 20 venditori che lavorano in tutta Italia con un unico sogno, quello di portare il nostro brand ad essere il numero uno a livello immobiliare. Quanto conta il franchising nel vostro business? Conta tantissimo in un business in cui dobbiamo elevare la categoria dei agenti immobiliari e dei professionisti immobiliari presenti in Italia. Conta tantissimo l'apporto formativo, di assistenza e di sostegno a quelli che sono gli imprenditori che scelgono Remax come futuro della loro vita nel mondo immobiliare. Il 2018 è stato un anno positivo per Remax Italia? Assolutamente sì, stiamo continuando con il trend di sviluppo che abbiamo tenuto negli ultimi anni. Siamo stati premiati anche a livello internazionale. Noi siamo un gruppo internazionale presento in 100 paesi quindi l'Italia è stata premiata anche a livello internazionale proprio per il lavoro di sviluppo che stiamo facendo con grande tenacia e con grande continuità. Come si guarda al 2019 con fiducia? Ci sono prospettive di sviluppo ulteriore? Si guarda con grande fiducia, vogliamo continuare a mantenere questo trend e vogliamo migliorare ancora, vogliamo trovare persone di qualità che scelgano il nostro brand e che caratterizzino il settore in maniera positiva e qualitativa. Ad oggi il franchising che cosa può e deve chiedere? Il franchising deve chiedere fiducia alle persone in un momento in cui è necessaria una guida in qualsiasi settore merceologico. Abbiamo bisogno di un partner forte che ci dia supporti, che ci dia sostegno, che riesca a indicarci la via. In un paese in cui non è sempre facile scegliere la cosa giusta e deve chiedere il giusto per il servizio che dà. Quindi credo che dobbiamo pretendere di essere la guida dei consumatori di domani.